Direttore Sartiano, si può essere contenti di questo 0-0? Ma voi sapete, io sono sempre sincero, assolutamente no. Oggi noi non siamo escesi e questa è la seconda partita che succede. Succede sempre con le squadre un pochettino meno blasonate. Quindi avevo chiesto proprio ai ragazzi di rimanere concentrati, sì, io che è il mister. Però probabilmente su questa cosa dobbiamo migliorare tanto per rispetto dei nostri tifosi e della società. Sono molto amareggiato, questo senz'altro. Si è intrattenuto una decina di minuti con i ragazzi negli spogliatoi. Che cosa ha detto? Quello che più o meno, magari se vogliamo articolare un po' di più. Ma no, noi quello che diciamo, quello che facciamo lo teniamo per noi. I ragazzi sanno, gli ho detto quello che pensavo, quello che sempre ritengo opportuno. La differenza lo fanno queste partite, su questo sicuramente dobbiamo migliorare. Sarà l'umiltà, l'umiltà che questo campionato dirà che è più la squadra che andrà a vincere. Si è notato, soprattutto nel primo tempo, questa ostinazione dei lanci lunghi verso comunque un attacco piuttosto pesante, perché c'erano Ardemagni e Fall. Però forse una manovra un po' sulle fasce poteva essere più fruttuosa. Oppure sono stati anche bravi gli avversari a non farla fare. Ma diciamo che oggi tutte le squadre che incontrano il Chieti chiaramente mettono il 110% in più. E' chiaro che noi con le due torri davanti oggi si era studiato, il mister crede avesse studiato una tipologia di gioco. Però abbiamo visto che i primi minuti, se creavamo gli spazi sugli esterni, sicuramente potevamo essere pericolose. Ancora una volta, seconda espulsione per il portiere Serra. Sì, è la seconda volta che succede e quindi insomma anche lui su alcune situazioni, come tutti, dobbiamo migliorare. Però insomma in dieci quasi paradossalmente avete provato alla fine anche a spingerle, a spingere e a vincerla. Ma io sono convinto che la squadra sapeva perfettamente la differenza tecnica e individuale tra noi e con tutto rispetto il termone. Però bisogna, la partita si gioca in cento minuti, non in dieci minuti o in cinque. Quindi bicchiere pieno o mezzo pieno che vedo che in dieci abbiamo mantenuto insomma il risultato. Ci può confermare che D'Ambò non fa parte più del Chieti, è stato ceduto, probabilmente non so se ufficiale, a Riccione? Sì, sì, no, lo confermo. Noi qui vogliamo gente che crede in questo progetto, lavori con umiltà, lavori con delle ambizioni, che abbia le stesse dinamiche societarie, questo senz'altro. E questo significa naturalmente che la formazione Neroverde è alla ricerca di un play, di un regista? Ma io l'avevo già dichiarato, quindi non mi nascondo dietro queste cose. Insomma, credevamo che D'Ambò potesse darci una mano, però abbiamo fatto delle considerazioni con la società, col mister, e quindi abbiamo ritenuto che andasse in altre piazze. La Samaritese si allontana? Guardi, non credo, nel senso sì, la classifica oggi dice questo, però questo è un campionato che è lungo, ancora abbiamo un girone di ritorno, che dirà la sua, abbiamo ancora quattro partite per finire il girone di andata, siamo lì, nel senso che siamo quattro o cinque squadre, quelle che già all'inizio campionato più o meno si sapeva, e quindi no, un campionato bello, però ancora non è detto all'ultima parola, assolutamente noi ci crediamo ancora, anzi, dimostreremo con i fatti sicuramente. Un ultimissimo flash, ora ci sono due gare interne da fare al buttino pieno. Questo senza ombra di dubbio, noi abbiamo ancora quattro gare, non due, noi dobbiamo guardare sempre partita per partita, però abbiamo quattro gare e insomma cercheremo di ottenere il massimo di punteggio, è chiaro che, ripeto, la concentrazione deve essere la prima.